Sei Toscana, torni a maggioranza pubblica, lo afferma Marco Mairaghi, amministratore delegato dell'azienda, gestore unico dei rifiuti nell'ato Toscana Sud, ato di cui il sindaco di Arezzo è presidente. L'ultima bufera di pochi giorni fa le dimissioni del presidente Roberto Paolini non avrebbe mai avuto voce in capitolo nella gestione e con lui anche, come scrive il quotidiano La Nazione, il socio pubblico e i 105 comuni fra Siena, Arezzo e Grosseto, che pagano 150 milioni di euro l'anno ad una società praticamente privata per raccogliere e smaltire i rifiuti. Insomma, dalla gara con cui Sei Toscana si è aggiudicata la gestione finita sotto inchiesta a una società che doveva essere a maggioranza pubblica e che invece è privata, sembra che tutto vada al rovescio. Da ricordare nel frattempo che su richiesta dall'autorità nazionale anticorruzione Sei Toscana è stata commissariata. Il prossimo 29 di giugno il bilancio sarà portato all'approvazione dei soci Siena Ambiente, partecipata dai comuni senesi, che detiene il 24,50% delle quote, le due aretine, XAI di Terranova Bracciolini con il 16,8% e AISA con il 6,8%, Coseca di Grosseto con lo 0,04% e la fetta più grande è di STASPA, società privata con il 26,8% che esprime ben 5 dei 7 membri del Consiglio di Amministrazione più la di Mairaghi. Proprio lui nelle ultime ore con un comunicato ufficiale invoca il ritorno in mano pubblica della società. Ho fatto il sindaco per dieci anni, sottolinea e so perfettamente che la raccolta dei rifiuti urbani deve essere controllata dai comuni perché quando un sindaco non è in grado di rispondere ai cittadini della gestione di un servizio così capillare che interessa ogni famiglia del suo territorio, poi tutto diventa più complicato e sicuramente non funziona. Entro l'estate, conclude Mairaghi, Sei Toscana dovrà fare un aumento di capitale da 18 milioni di euro e per questo invito i soci pubblici, Siena Ambiente, XAI e AISA, a lavorare insieme per recuperare la maggioranza della società di cui sono amministratore.